Santa Croce e Camerina avrà la sua terza farmacia e sarà ubicata lungo la fascia costiera. Il Consiglio Comunale ha deciso infatti, non senza una travagliata votazione, di destinare la terza farmacia cittadina, peraltro molto attesa da tempo, nella frazione di Casuzze. È stata sovvertita in questo modo la decisione che, assunta dalla precedente amministrazione comunale a fine mandato, prevedeva invece tale apertura in zona Punta Secca-Caucana. Con una sostanziale differenza, sottolinea il sindaco Franca Iurato, e cioè che in quel caso il Consiglio Comunale non era stato fatto esprimere, mentre stavolta, espletati tutti gli adempimenti necessari, a dispetto della decisione già assunta in precedenza, la palla è passata al civico consesso che ha potuto così dire la sua, com'era giusto che fosse, in totale autonomia e nella maniera che ha ritenuto, conclude il sindaco Iurato, più opportuna. Per la terza farmacia è stata dunque scelta l'area Casuzze, anche in considerazione dell'elevato numero di residenti che vi abitano durante il periodo invernale.